Ho fatto tre anni analogiani. Questa che età? Dai nove ai dodici. E già cominciava a vedersi? Si già ho fatto i sordienti, non è che si poteva vedere già. Però forse eri più forte. Pensavo solo a divertirmi. Ho pensato sempre a divertirmi. Poi quando ho cominciato a giocare nella primavera della Roma... Dall'ordigiani la Roma è venuta per... A dodici anni sono andato, infatti sono sette anni con questo... Voi venire nella Roma, com'è stato? Io ero richiesto da Roma in Lazio. Sì, anche da Lazio di Grecia. Però siccome ero nella Roma...